elettrici e di cablaggi strutturati. All'inizio c'erano cablaggi di tipo coassiale, da lì un'evoluzione fino ad arrivare a cablaggi di cavi UTP e fibra ottica. Questo ci ha portato a un'evoluzione anche all'interno del nostro settore, anche all'interno dell'azienda, di corsi di aggiornamento. Allora, la nostra società nasce dal 1992.